su new life radio l'orto di rosanna conduce rosanna marani buonasera a tutti benvenuti a questa nuova puntata dell'orto di rosanna insieme a dario nincini e la nostra rosanna marani buongiorno anzi buonasera scusami buonasera ma che ti devi ancora svegliare a quest'ora a quest'ora sono già nelle braccia di morfeo come si dice no e d'altronde ogni tramonto nasconde l'aurora ogni aurora nasconde il tramonto quindi è tutto sempre un principio e una fine una fine un principio diciamo io mi sono fermato lì nel mezzo come sta allora io sto bene e la nostra trasmissione direi dimmelo tu come sta ma sta andando diciamo molto bene perché essendo solo la seconda puntata abbiamo già questi bei riscontri direi che è un'ottima situazione allora possiamo alzare l'indice di gradimento e non il medio di sgradimento beh io desidero ringraziare davvero alcune persone come per esempio paola totto che addirittura sbobinato la prima puntata nel mio orto si legge tutto direi che nessuno mi aveva mai sbobinato mi hanno fatto di tutto ma non mi hanno mai sbobinato no 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 oh guarda che stasera dobbiamo non esaurire ma mettere i puntini sulle i e le aste le gambette alle a le o e alle u amore assolutamente guarda infatti sono tutto orecchie per sentire la seconda parte dunque grazie a tutti